Gli ordini degli ingegneri e degli architetti sono stupiti per il ricorso che ha voluto approntare la regione Abruzzo riguardo le percentuali dei compensi dei professionisti in materia di opere del masterplan. Cosa è accaduto? È accaduto che il TAR sul nostro ricorso avverso questa decurtazione massiccia e indiscriminata è contro legge. Noi ritenevamo che fosse contro la legge nazionale. Il TAR ci ha dato ragione e adesso la regione con il nostro grande disappunto ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. Noi ovviamente ci aspettiamo di essere vincitore, di tornare vittoriosi anche dal giudizio del Consiglio di Stato anche perché come dicevamo, come abbiamo detto, abbiamo ribadito eccetera, si tratta di applicare, semplicemente applicare una norma nazionale. Certo non fa piacere che questo governo regionale che adesso non ha più il governatore, l'ex D'Alfonso, il quale si era un pochettino indestardito su questa decurtazione. Non ci aspettavamo che la nuova governance, il presidente Lolli, fosse così deciso a perseguire questa linea diciamolo così antipatica anche perché, diciamolo chiaro e tondo, siamo in periodo di elezioni, potrebbe essere anche un'arma a doppio taglio. A vostro parere per quale ragione la regione ha fatto ricorso al Consiglio di Stato? Secondo me, io, azzardo ecco, azzardo è stata la regione, almeno i vertici dell'amministrazione della regione, è stata mal consigliata dai suoi legali.